fratelli oggi siamo qui riuniti per raccogliere la seconda gemma del livello boneyard non so perché ho dato questa introduzione matrimoniale al video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti senza la gemma rossa questa pedana è normalmente inattiva si accede ad una parte normalmente inaccessibile dove non vi sono scatole non vi sono delle scatole anche perché se ci fossero scatole sarebbe impossibile prendere la gemma normale intanto i checkpoint sono di metallo wow e otteniamo così la gemma e per ora qui da Lighting Pro che è tutto alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti